Roberto Rossi, procuratore di Arezzo, resta titolare delle inchieste che coinvolgono la vecchia banca Etruria, ma alcuni dei suoi comportamenti possono essere oggetto di valutazione disciplinare. La prima commissione del Consiglio Superiore della Magistratura propone al Plenum l'archiviazione del fascicolo sul procuratore perché non ci sono gli estremi per un trasferimento di ufficio, ma trasmette gli atti al procuratore generale della Cassazione, Pasquale Ciccolo, titolare dell'azione disciplinare. Al centro dell'inchiesta la presunta incompatibilità tra l'incarico di consulente giuridico della Presidenza del Consiglio, ricoperto dal procuratore fino allo scorso dicembre, e il coordinamento che lo stesso Rossi svolge nelle indagini sulla popolare dell'Etruria. L'inchiesta aveva preso avvio a fine 2015 su istanza del consigliere laico del CSM, Pier Antonio Zanettin. Non ci sono elementi per sostenere un rapporto di conoscenza del dottor Rossi con il ministro Maria Elena Boschi, tale da mettere in discussione il profilo dell'imparzialità e dell'indipendenza del magistrato nella trattazione di vicende processuali che potenzialmente potrebbero coinvolgere parenti del citato ministro. È uno dei passaggi della proposta di archiviazione della prima commissione del CSM, riporta Lanza, sul procuratore di Arezzo Roberto Rossi.